Visto che in questi giorni mi è ritornata la voglia di tornare sulle macchine agricole diciamo che oggi sono in compagnia di un piccolo semovente elettrico che si utilizza in stalla e sono qui per rendermi conto di che cosa significa utilizzare una macchina elettrica e è una cosa piccolina giusto per iniziare con i miei nuovi video che insomma ho intenzione di fare prossimamente anche se sono stato un po' latitante in questi ultimi due mesi e cosa vi dico? Siamo su questo piccolo triciclo che funziona con delle batterie elettriche a 48 volt e che serve per la pulizia nelle corsie di alimentazione delle stalle di bovini principalmente da latte di bovini in generale questo è il piccolo tre ruote elettrico con questa coclea anteriore la macchina è dotata di un pacco di batterie da kilowattora 48 volte la tensione di lavoro e la coclea anteriore serve appunto per spostare la razione diciamo nella corsia di alimentazione verso le mangiatoie la macchina è a trazione integrale quindi su tutte e tre le ruote oppure solo sulla ruota posteriore che è anche quella sterzante e cos'altro a dirvi? direi basta così poi vi andrete a cercare tutte le informazioni tecniche sul Bobman nel frattempo ci facciamo un giretto questo è quello che si vede dalla postazione di guida che come vedete lo sto cavalcando lo accendiamo in realtà è solo una chiave che dà corrente il motore elettrico mette in azione le pompe idrauliche che alimenta tutto il circuito qui abbiamo la nostra leva per sollevare la coclea qui abbiamo il rubinetto per fare trazione solo posteriore trazione sulle tre ruote e questo qua davanti serve per azionare la coclea come vedete questa è la coclea che gira e se io devo lavorare cosa faccio? lo abbasso con il pedale questo qua schiaccia in giù va avanti è un po' scattosa la macchina tiro in su vado in retro e questo insomma è il giocattolino da utilizzare in stalla per passare diciamo ore felici su questo piccolo tre ruote per fare la cura in stalla lungo le lungo le corsie di alimentazione bene buona la prima quindi questo è questo è quanto e ci rivediamo al prossimo video dove ci sarà altro a presto questo è un po' scattoso l'allergio è un po' scattoso perché ci sarà un po' scattoso l'allergio è un po' scattoso per fare la cura